Gli ultimi ritrovati high-tech per la domotica, come la telecamera che permette di controllare la propria casa mentre si è fuori con il cellulare, contapassi, braccialetti che misurano quanto e come dormiamo e accessori per sentire la musica ovunque, prodotti che possono migliorare la qualità della vita, che si connettono con gli smartphone e che oggi sono utilizzati da sempre più clienti, attirati dalle potenzialità dell'evoluzione digitale. Un trend portato avanti da Wind che ha deciso di inserire uno spazio dedicato a prodotti di questo tipo all'interno di un negozio di Roma, il primo dei nuovi store pensati così che entro il 2015 saranno presenti su tutto il territorio, una strategia spiegata dal direttore commerciale Valerio Marra. Oggi sempre di più i nostri clienti ci chiedono oggetti wearable, cioè degli accessori digitali e quindi era giusto seguire questa evoluzione creando un concept ad hoc che appunto si chiama Digital Home and Life, è un concept che permette ai nostri clienti di entrare in una realtà completamente dedicata al mondo dei wearable, quindi degli accessori digitali e di trovare qui una gamma selezionata di prodotti e soprattutto dei consulenti che permettono ai nostri clienti di avvicinarsi a questo mondo con facilità e semplicità. Al momento 16 prodotti acquistabili anche online che coprono le aree music, wellness, smart home e smart watch selezionati per il cliente in aggiornamento per un'offerta che sarà sempre più integrata anche in quella della telefonia. Oggetti utili e con potenzialità per il futuro, come spiega l'amministratore delegato dei win, maximo e barra. Alcuni di questi fanno delle cose semplici, ti motivano ad avere una vita un po' più sana. Quando ci sono i normali contapassi e uno si rende conto che ha fatto pochi passi nella giornata, magari decidi di fare le scale una volta in più nella giornata anziché sedersi. Per quanto riguarda invece il peso e l'integrazione con tutti gli altri oggetti, sempre per quanto riguarda la misurazione di se stessi, ecco la combinazione di questi dati può essere in futuro molto utile per quanto riguarda la diagnosi anche di alcune malattie o patologie.